otto undicesimo arrivo a seccare perché se arrivi il secondo che potevi arrivare primo non hai sbagliato niente incontro il signor Rovai a settembre alle ore 16, Coppa Italia d'eccellenza Castelnuovo-Ponte-Guzanese è la prima partita grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.